Io credo che la competitività sia un valore per il sistema paese, credo che nell'ambito delle infrastrutture la competizione aiuti e quindi l'abbiamo peraltro anche visto sia in Germania che in Veneto, quindi la messa a gara dei servizi di trasporto locale che non è la privatizzazione, è la messa a gara, quindi possono vincere anche dei soggetti pubblici, una messa a gara che deve prevedere dei piccoli lotti ovviamente per poter essere realizzata, credo che avrebbe portato sicuramente una maggiore qualità dei servizi e dei prezzi minori. Come vedrebbe Cairo candidato a sindaco di Milano? Ci sono sicuramente candidature importanti da considerare e quindi chi si mette a disposizione della propria città credo che possa essere visto come un valore aggiunto.